A Lecce il PD continua a vincere così come è successo negli ultimi due anni. Conquistando oltre la metà dei comuni chiamati al voto alle ultime amministrative, tra cui Alessano, Cutrofiano, Melissano, Sanarica, Sogliano, Patù, Taviano e Trepuzzi, rimane il rammarico per la sconfitta di misura nel ballottaggio a Nardò. L'analisi del voto da parte del segretario provinciale del PD Salvatore Piconese. È necessario sottolineare che le amministrative 2016 hanno consacrato una nuova generazione di dirigenti di partito alla guida delle rispettive città. Ciò rappresenta per il nostro partito e per il nostro gruppo dirigente una sfida importante poiché questa nuova generazione è chiamata a innovare l'esercizio democratico della funzione pubblica nel governo delle città. Inoltre è utile ribadire che il PD Salentino dimostra di essere capace di costruire sul territorio una nuova classe dirigente in grado di cogliere le istanze di cambiamento provenienti dalle comunità locali. Pertanto il risultato delle amministrative 2016 è positivo ed è un risultato che si attesta come il migliore in Puglia e tra i migliori in Italia. E tutto ciò in uno scenario provinciale che vede da un lato la vittoria del PD e del centro-sinistra e dall'altra la sconfitta e l'inconsistenza politica del Movimento 5 Stelle. Per ciò che riguarda invece il centro-destra, continua il segretario Piconese, vi è una crisi politica e strutturale di quel blocco politico e sociale che abbiamo conosciuto negli ultimi vent'anni, ossia una destrutturazione politica che coincide con la decadenza della leadership di Fitto. Mentre per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle si registra una difficoltà di radicamento e una inconsistenza politica su tutto il territorio provinciale. Difatti rispetto a ciò che è successo in Italia e in Puglia, a Lecce sono usciti sconfitti. E' senza dubbio importante ribadire che in questa campagna elettorale il PD salentino, nonostante le tante difficoltà con alcune divisioni interne, ha tenuto bene, ha vinto nella maggior parte dei comuni chiamati al voto e soprattutto ha arginato il vento populista, essenzialmente per due ragioni. La prima è riconducibile all'opera di radicamento e di costruzione del partito sul territorio negli ultimi due anni. La seconda è legata alla capacità di selezionare la classe dirigente nelle città, mediante una continua interlocuzione tra la segreteria provinciale e i circoli locali. Ma oggi, all'indomani delle amministrative, la priorità del nostro impegno, conclude Piconese, e continuare l'opera di ricostruzione del partito sul territorio. In tal senso, bisogna dire che tanto è stato fatto, ma ancora tanto ci sarà da fare. In particolare, bisognerà intervenire nelle città nelle quali il PD continua a perdere e da tempo dimostra difficoltà di radicamento. In seguimento spericolato ieri sulla provinciale Torre Lapillo-San Pancrazio, dopo la segnalazione di una donna derubata dell'auto mentre era impegnata a raccogliere pomodori in campagna. I carabinieri della stazione di Veglie, ricevuta la segnalazione, sono messi subito alla ricerca di una Fiat Idea. L'auto è stata intercettata in località Cardo, alla periferia di Veglie. L'uomo alla guida, cortosi della presenza dei militari, ha tentato di seminare la pattuglia iniziando una folle corsa a tutta velocità. Durante il percorso, caratterizzato da rettilinei, curve e dossi pericolosi, il conducente ha dapprima ha effettuato un testacoda, invadendo la corsia opposta, poi ha imboccato un'altra strada sterrata, secondaria, cercando persino di far uscire fuori strada l'auto dei carabinieri. Non riuscendoci, ha continuato la sua folle corsa, fino a quando non ha perso il controllo del mezzo, finendo dapprima in un avvallamento, quindi sullo sterrato. Il ladro, sceso dal mezzo, si è dato alla fuga a piedi, ma è stato bloccato subito dopo dai carabinieri. A finire nei guai, Pietro Mingolla, trentenne di Oria. L'uomo risponde di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato e condotto nel supercarcere di Borgo San Nicola. Momenti di terrore, quelli vissuti da una donna, 73enne di Lecce, nella giornata di ieri. L'anziana aveva da poco ritirato la propria pensione nell'ufficio postale, quando nei pressi di via Benedetto Croce, una zona centrale della città, è stata raggiunta da un malvivelo che l'ha aggredita dopo averla seguita per alcuni metri. L'uomo, alto e robusto, le ha puntato un coltello alla gola, intimandole di consegnarle il denaro. Una volta ottenuto il bottino, circa 1000 euro, l'uomo si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute alcune volanti di polizia e gli operatori del 118, visto che l'anziana ha accusato un lieve malore. Sull'episodio sono in corso le indagini, elementi utili per risalire al ladro potranno pervenire dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, collocate nella zona dove è avvenuta la rapina. Arriva una prima svolta nelle indagini sulla morte della psicologa Virginia Quaranta. È stato iscritto nel registro degli indagati il nome di un amico della vittima. Si infittisce dunque il giallo legato all'improvviso decesso della 32enne originaria di Diso, il cui cadavere è stato rinvenuto il 18 giugno a Lecce. L'autopsia effettuata dal medico legale Alberto Tortorella avrebbe escluso segni di violenza sul corpo della giovane professionista. Secondo l'esame, la morte sarebbe avvenuta a causa di una aritmia cardiaca. A distanza di due settimane, qualcosa avrebbe però portato il sostituto procuratore, Francesca Miglietta, a iscrivere nel registro degli indagati l'amico della donna, un uomo residente in un paese del capo di Leuca. L'uomo risponde dell'accusa di omicidio volontario. Tra i due, stando a quanto emerso, ci sarebbero stati dei frequenti contatti telefonici. Si tratta di un atto formalmente dovuto per consentire specifici accertamenti tecnici che un consulente nominato dalla procura effettuerà sui cellulari della 32enne. Verranno analizzati chiamate ed sms. Virginia 40, quel sabato mattina, era attesa ad un convegno. Non vedendola arrivare, alcuni colleghi si insospettirono e decisero di recarsi da lei per capire cosa le fosse accaduto. Nella sua abitazione, Viale Rossini, la macabra scoperta. La psicologa era distesa sul letto e non respirava. Era morta qualche ora prima. Immediata la segnalazione alla polizia, che ha accertato l'assenza di segni di effrazione sulla porta d'ingresso e di violenza sul corpo. Ad attirare l'attenzione è stato però uno strano disordine. Sparsi qua e là c'erano dei referti medici. L'attività investigativa, per fare luce sull'episodio, è stata affidata agli agenti della squadra mobile di Lecce, sotto la guida del vicequestore aggiunto Sabrina Manzone e del dirigente Elena Raggio. In ogni caso, alla luce delle ultime novità investigative, sembrerebbe al momento da escludersi la pista della morte naturale. Intanto il PM è in attesa delle conclusioni dell'esame tossicologico e di quello autoptico. Sarà presentato in anteprima, venerdì 8 luglio, alle ore 19.30, presso l'Open Space del Comune di Lecce, il docufilm di Vergo «Sie uomini solo con gli altri», realizzato dall'agenzia di comunicazione Caleidon di Rimini, già curatrice della campagna nazionale delle banche di credito cooperativo italiane. Saranno presenti in sala il regista Cristian Gianfreda e il fondatore dell'agenzia Caleidon, Walter Toni, assieme al sindaco di Lecce, Paolo Perrone, e a quanti nel corso degli anni hanno sostenuto in forme differenti il progetto di Vergo. In sette anni ha raggiunto una diffusione nazionale, migliaia di persone che quotidianamente ne seguono i progressi sulla pagina Facebook, centinaia di persone che lo considerano un punto di riferimento nel campo dell'artigianato di qualità. Ma il progetto di Vergo, promosso dalla fondazione di Vergo Onlus, e la sua crescita, raccontati attraverso le parole dei 13 artisti con diversa abilità mentale che ne rappresentano, più che i destinatari, uno dei cardini, sono tutt'altra storia. Una storia divergente, di cui la città di Lecce è al tempo stesso custode, promotrice e beneficiaria. In contemporanea, sempre venerdì, i volontari e gli artisti del progetto di Vergo saranno nel cuore della città in Piazza Santoronzo dalle 18 alle 24, con l'iniziativa Lecce nel cuore di Vergo, uno stand all'interno del quale si potrà conoscere meglio l'esperienza dalla viva voce dei protagonisti, elaborare assieme una mappa concettuale attorno al tema della diversità e a partire dalle 20 vedere il video in oggetto. L'intera manifestazione ha il patrocinio del Comune di Lecce. Vi aspettiamo all'8 luglio in Piazza Santoronzo! Si chiama Lecce Rinasce ed è una nuova associazione culturale di protesta nata a Lecce, composta da italiani e stranieri non politici di professione e provenienti dalle periferie leccesi. Un'alleanza tra cittadini comuni impegnati nel sociale ma stanchi di essere inascoltati, cittadini di tutte le fasce sociali, credi religiosi e nazionalità, cittadini scontenti della politica locale e di come vanno le cose, cittadini scontenti della politica locale e di come vanno le cose, cittadini soffocati dai mille problemi delle periferie, mancanza di lavoro, mancanza di alloggi, mancanza di servizi e mancanza di ascolto da parte delle istituzioni. Questo movimento nasce per la mancanza di inascolto da parte delle istituzioni, nasce soprattutto dalla gente delle periferie per la mancanza di servizi e per il degrado sociale che ogni volta e ogni giorno avanza nelle nostre periferie. Quindi ci siamo decisi, ci siamo riuniti di fare qualcosa in ambito di cittadinanza attiva. Il movimento è unico nel suo Geniche perché è composto da italiani e stranieri irregolari che vivono ogni giorno il problema delle periferie. Abbiamo anche da noi la futura candidata al Consiglio Comunale di Lecce, Nutanrana, e gente comune stanca dei soldi politici. Quali sono i problemi più urgenti che intendete affrontare da qui a breve, a medio termine? Il problema dei servizi, per esempio, noi abbiamo tanti o bei parchi che nelle periferie ma non servono a niente. Noi abbiamo bisogno di poste, abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di case. Per esempio nel quartiere Sampio abbiamo 3-4 immobili completamente murati quando la gente dorme in strada e queste le nostre lotte, lotte sociali. Il problema abitativo è uno dei problemi più scottanti, più urgenti del nostro territorio? E soprattutto colpisce le periferie perché ci sono famiglie che vivono in 10-12 in un'abitazione. Quando abbiamo, vi ripeto l'esempio, del quartiere Sampio dove ci sono immobili completamente inutilizzati oppure su via Bonteroni, un'intera struttura occupata abusivamente da Rom. Il nome Lecce Rinasce cosa significa? Noi ci siamo ispirati alla Fenice che rinasce dalle nostre ceneri, quindi è questo, noi rinasciamo da noi stessi. È stato ufficializzato lo staff tecnico che collaborerà con Mr. Padalino nella prossima stagione alla guida del Lecce. Il gruppo su cui potrà contare il nuovo Mr. Giallorosso è composto da Sergio Di Corcia, che è l'allenatore in seconda, Paolo Fiore, che avrà il ruolo di collaboratore tecnico, Leandro Zoila, che sarà invece il preparatore atletico, mentre resta in carica Luigi Sassanelli, quale preparatore dei portieri. Ricordiamo che il neo allenatore Giallorosso pochi giorni fa è stato squalificato per due mesi dalla Commissione Disciplinare del settore tecnico per una violazione disciplinare del regolamento tecnico relativa a fatti pregressi al suo arrivo sulla panchina del club salentino. Ad ogni modo dovrebbe essere regolarmente al suo posto per la prima partita di campionato di Lega Pro. L'Unione Sportiva Lecce comunica inoltre di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ferdinando Vito Francesco nell'ultima annata all'Alessandria. Vito Francesco, difensore di 28 anni, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha giocato con Cremonese, Grosseto, Cittadella, Perugia e Alessandria. Dovrebbe arrivare a breve il rinnovo di contratto infine con il fantasista uruguaiano Juan Surraco e il rinnovo del prestito della punta Salvatore Caturano di proprietà del Bari. Grazie a tutti.